Non abbiamo nessuna attenzione politica, nessuna, sia chiaro, l'ha detto Gianna Maria, noi semplicemente vogliamo continuare la battaglia perché là non parlavano di invasi di 15 metri, noi all'assimo ciughe dei 2-3-4 metri, noi non vogliamo invasi di questo tipo, semplicemente e lo trattiamo, noi lottiamo e siamo uniti, attenzione, c'è qualcuno che dice che vogliamo dividere, il nostro motto è insieme, per amore, contro di forma di diga, nessuno di noi si presenterà alle elezioni, state tranquilli, va bene? Però vogliamo stare insieme e vincerla a questa battaglia. Innanzitutto volevo cogliere l'occasione di questa serata per dedicare un pensiero a un ragazzo di Vadalucco che non c'è più, che è venuto meno in questi giorni, Gianni Bestanno. Volevo un applauso. Voglio ringraziare per questa bellissima e anche lunga giornata tutti quelli che sono intervenuti, voglio ringraziare i Cugini dei Sentieri che ci hanno dato una mano ad organizzare, vorrevo ringraziare Norma e Gianni che hanno fatto due interventi in ricordo del Biscaro, volevo ringraziare la famiglia del Biscaro, volevo ringraziare Franco Bianchi e Gianna per gli interventi che condividiamo in pieno perché la nostra battaglia, lotta, ma in realtà è la nostra difesa, che è una cosa forse diversa. Noi non stiamo facendo una rotta, noi ci stiamo difendendo, difendendo perché noi non vogliamo che la nostra venga portata via. E quindi questa...